Senza remore, andiamo in guerra senza la minima pietà. È il solo modo in cui vivono e muoiono i veri soldati. E salvo tutti ragazzi, siamo qui oggi in un nuovissimo video su Call of Duty Modern Warfare. Siamo nella modalità storia, l'altra volta vi ho portato la modalità... Warzone, scusate, Warzone. Però non vedo che è piaciuto a tante persone, quindi oggi vi porto la modalità storia perché mi piace. So che forse è un po' tardi vi portare questo tipo di gameplay, però... Sentite, io ora ce lo è ora nel posto, esattive, però... Accontentatemi. Comunque, allora, noi siamo Alex, non voglio guardarmi questa scena a noi usa. Comunque loro devono andare a recuperare il gas che c'hanno i terroristi, il video si grigia a suio. Perché sono Alex, quei belli uomo. Vedi, 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 vedi come sono bello, io sono bellissimo. Perché ho provato a vista che mi sono sempre più bello nelle storie. Sono Alex, il bell'uomo. Lui è il signor Davis, lui è il signor... Hoit, tu vi sei simpatico, no? È vero, mi stiamo molto simpatico. Andiamo avanti, su, muovetevi, camminate veloce, veloce. E' il generale Barco, dubito che si farà vedere da queste poteche d'acqua. Fantastica. Dove siete? Ah, ma cosate, mi sono rimasto indietro. Andate avanti. Ah, ok, dei russi arrivano i russi. Non sono russi, non sono mercenari. Due mercenari, niente uniforme. Tre, due, uno. Bravi bambini. Siete proprio bravi, amici dei soldati. Esatto, esatto, esatto. Conferma a bersaglio. Sdirci un pochino nelle case dei terroristi russi. Guarda là quanto sono brutti, guardali, guardali quanto sono brutti. Cosa fa quella, con la macchina? Ah, là dentro c'è il gas. Ah no, preso io. Eh, sono scemo, ragazzi. Scusatemi, però. Sì, vado un attimo a giustare il microfono. Che si sta un pochino allontanando. Ok, attacco aereo. Boom, esplode. Allora, ragazzi, siete pronti per vedere i fuochi d'artificio? Tu, amico mio, sei pronto per vedere i fuochi d'artificio? Guarda, questa è la notte di sand. Sand. Che bello. Guarda, guarda, che bello. Guarda, sono fantastici questi fuochi d'artificio. Guarda, che bello. Va a chiamare gli altri, che non si stanno perdendo tutti. Che bello. Che magnificenza. Andiamo avanti. Ma dacci un bel calcio allo sfondi, signore. Qua dobbiamo scendere, sì. E buttati. Butt, buttati. Butt, non abbiamo tempo da perdere. Stiamo già a tre minuti. Il tempo è di nare, ragazzi. Il tempo è di nare. Però qua dovremmo stare un po' tantino attenti, perché potrebbero arrivare... Eccoli, signori cattivi. Ma se ti, se ti non ti fermi, loro ti scovano. No, è in piedi di scuola, mi scovano. Guarda, 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 quanto sono un pirla io. Quanto sono un pirla. Mamma mia. Mamma mia. Passatemi se ogni tempo mi fermo la controllosa. La registrazione da B.S. sta continuando. Comunque oggi finalmente sono riuscito a portarvi l'audio sui giochi che faccio dalla B.S. Tipo il Leonai Board. Questi qua non ho mai... Non sono mai riuscito a portarlo. Comunque ho fatto una modifica e sono riuscito a portarlo. Sono bravissimo. Fatemi gli applausi. Comunque. Ah, bello. Bello che la loro base va in pezzi. Vedi qua. Muori. Niente aiuto. Per voi schifosi permi. No, non è vero. Ti voglio bene. No, no, sti sei anche volatilizzato. Mi dispiace, Fra, ma devo farlo. Avere una morte veloce. E questo. Questo dovrebbe essere fuoco. Che schifo. Sì, ok. Sparate lì in testa. Sfonda questa... Bam, buongiorno. Siamo venuti qui per fare la festa. Lo dico male. Non esplodono. Mi dia fastidio quando dico spudete. Non esplodono. Ecco fatto. Vai, apri veloci con il tuo piede di porco. Apri sta porta. Bravo, bravo. Vedi che tu sei un intelligente. Ma sfonda... Mamma mia. Eh. Tu sei proprio un pirla comunque. Eri proprio un pirlo. Bene. Non ci colpiranno. Non ci colpiranno. Almeno per 5 minuti. Forza. Prendiamo il gas prima che lo spostino. Dove stanno i signori cattivi? Mi piace questo. Quella voi pensate a sparare gli NPC dai. Ma manco gli NPC sapete sparare. Vieni qua. Ben, 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 mori. Ah ma poverino. Quello già muovo. Un conto di grazia. Non si sa mai. Uno. Due. Ai 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 a ai 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 ai. Avevo capito, raga. Eh, mi dispiace ma... Voglio affrontarvi la 1. A quanto pare. ragazzi ma allora vi odiate voi non fai niente se gli spari addosso ha le protezioni la mitragliatrice ma allora sei davvero un pirla andiamo però se arrivano i nemici cattivi no granata e vabbè basta queste granate aia ormai il culetto esplodi esplodi non va bene non va bene non va bene non mucio o bueno ok esplodite male tutti quanti due granate capite per squizio ed esplodite salite sopra guarda in fretta che devo fare il video non mettiamo tempo tu mi dispiace ma pure tu ma chi ti ha chiamato a te ciao è di tu il tiro che bella la posso usare anch'io da qua la faccio boom 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 sparò tutti dove andiamo no di là ok troviamo il gas no 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 ma voi andate sopra la cremata stupido mettiamo la flashback giusto perché devo usare la silenzia io voglio usare questo perché è poderoso un topo che bello dove sei andato vabbè andiamo libero col cacchio che libero raga aprite questa porta in fretta signori oh adesso si che sono bello guarda mi sono proprio mi sento proprio potente aprite eh dai eh signore non si dice non si dice quella parola brutta adesso adesso mi costringe a censurarla eh che cavolo di sicuro sarà stato l'attacco permesso ho visto qualcosa lì chissà cosa sarà mai ma io per sicurezza mangio sempre una granata adesso esploso di sicuro ancora sei vivo muori è a terra sì ma qua era un vaso sì però sta cosa che stiamo al buio mi fa vedere un tantino di ansia mi ha dato anche la grava forse se ti spero dove la devo lanciare ah sopra cacchio quanto so scemo oh eh ma scusami tu mi dici di lanciarla so scusate si sente un rumore strano non morirmi non morirmi Gonzavi che tu sei Gonzavi Gonzavi non morire il telefono mi squilla non so cosa sia stato chi va là ah chi va là allora tu mamma mia marcello attacchiamo la corrente facciamo luce troviamo il gas che bello perché devo schiacciare i pulsanti rossi attacca ah ok scusate devo prima attaccare la corrente schiacciamo i pulsanti no dai non schiacciarmi devo schiacciarlo io no dai ha schiacciato il pulsante rossa al posto mio che cattivo uomo aspettate un attimo che si è bloccata la registrazione sono proprio stupido ok fatto spero non vi siate persi niente di importante gas si adesso lecchiamone un poco per vedere se è effettivamente gas questa è la mia provetta per leccare lecchiamo si è gas perché ha un buon sapore gas di qualità ragazzi gas di qualità esatto andiamo andiamo fai entrare ciao buongiorno siamo in movimento so già che qua non andrà a finire bene se poi spoveriamo oh no cacchio spoilerato si però tu pure sei scemo ti arrivi una macchina che bello i v30 proiettili che bella in mezzo si ma tu muori che buon uomo che sei chi cazzo sono è troppe brutte parole ragazzi qua devo censurare tanto troppo chi è questo ma non è russo siamo americani siamo la potenza estrema scappate cacate cagatevi sotto cagatevi sotto cagatevi sotto sono un americano sono potenti ho un'aurea potentissima ragazzi io ho un'aurea potentissima ecco 3-1 a watch alex cosa succede un attentato diversi mari uccisi gas rubato venite subito a prenderci ricevuto rilevo parecchie forze russe dirette verso di voi tenete duro veniamo a prenderli watcher chiudo quest'operazione è stata compartimentata ma che cosa cazzo vuoi senti signora mi ho fatto del mio meglio quelli sono i miei marine li serve una forza di intervento questo non è consigliabile la sua non sta a te colonnello la sua generale i miei uomini non ristarci un minuto ok sì signora io faccio rumore vicino al micro è molto stupido il cremino ha sospeso le comunicazioni diplomatiche la sesta flotta avanza nel mar nero e le armi chimiche sono chissà dove stai lasciando dietro di te troppe tracce la sua rimedia eh signora l'intelligence è la nostra arma migliore abbiamo già provato l'intelligence dammi qualcosa di meglio eh eh signora senti lei vuole troppo da me ah questo è il capitano Price figone della madre della pecca no no è questo questo non è tutto vedi lui è Price Price è bellissimo guarda tutta la sua aria bellissima come guarda la telecamera ha un'aria molto sexy allora adesso che siamo arrivati a Londra direi che ci possiamo fermare anche qui perchè di coldo ve lo faccio vedere brevi siamo a 15 minuti di registrazione non penso che dovrò fare neanche tanti tagli perchè questa è una storia quindi siamo fermati qua ci vediamo al prossimo episodio ragazzi è durato poco lo so però chiudo non posso farlo dorare tanto perchè sono e non li uso sembra che siamo da soli comunque andrà bene dire perchè per questa volta ci possiamo fermare qui e ci vediamo al prossimo episodio ciao